Jihad non vuol dire soltanto guerra santa, Jihad vuol dire sforzo e ci sono quattro tipi di Jihad, uno la Jihad personale cioè lo sforzo contro le proprie passioni personali, due la Jihad della parola per ricordare gli obblighi e convertire, tre la Jihad della mano per mettere in pratica la Sharia, quattro la Jihad della spada, la spada per combattere i miscredenti, quindi il secondo cavaliere dell'Apocalisse indica proprio le persecuzioni che arriveranno sulle istituzioni chiesa, sui cristiani per mano soprattutto degli estremisti islamici. Percorreva velocemente tutta l'Europa distruggendo con la spada le cupole delle chiese cristiane che incontrava sul suo cammino, tagliando infine anche la cupola di San Pietro, chiese al Signore Gesù il significato della visione ed egli mi rispose, figlio mio, il cavaliere che hai visto è uno dei sette angeli, attenzione, sette angeli, che sono al cospetto di Dio Padre Onnipotente. La visione che ti ho mostrato simboleggia che presto vi sarà una persecuzione dei cristiani da parte dei popoli asiatici. I sette angeli sono le sette coppe dell'Apocalisse, quindi i cavalieri descrivono degli eventi che sono citati anche nelle coppe dell'Apocalisse. Approfondiamo. Cavarzere, apparizioni, Venezia, 2010. Lo vedi, figlia mia, tutte quelle teste per terra, tutte quelle spade affilate lì? Non avere paura, quelli sono malvagi, sono i grandi peccatori che non credono. Ah, perché? Perché mamma? Questa è la risposta della veggente. Perché mamma? Portami via da questo. Oh quanto sangue corre! Un fiume di sangue, ricordate questo particolare, il fiume di sangue. Apocalisse 16, il terzo versò la sua coppa, quindi parliamo della terza coppa dell'Apocalisse. Versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti delle acque e diventarono sangue. Allora udì l'angelo delle acque che diceva, sei giusto tu che sei e che eri, tu il santo poiché è così hai giudicato. Essi hanno versato il sangue dei santi e di profeti. Quindi il fiume diventa sangue a causa del martirio dei santi e dei profeti, dei cristiani. Santa Ildegarda I cristiani andranno verso la morte per martirio che il figlio della perdizione avrà preparato per loro, in un numero tale che quegli assassini non saranno neanche in grado di contarne i cadaveri. Allora il sangue, attenzione, di questi martiri riempirà i fiumi. Luz de Maria 2011 Molto presto la mia chiesa sarà nuovamente e grandemente colpita. La mia chiesa perseguitata sanguinerà. Sanguinerà così tanto che i fiumi si tingeranno di rosso, ma il sangue dei martiri farà risorgere la mia chiesa. E vittoriosa, comandata da mia madre, si solleverà e trionferà su tutto il male. La grande persecuzione dei cristiani, quindi, è il secondo cavaliere e la terza coppa dell'Apocalisse. E qui apro una parentesi. Il cavaliere rosso, il secondo cavaliere dell'Apocalisse, come ho detto, è il terrorismo che è stato creato dai servizi segreti, finanziato, addestrato. Poco tempo fa, in un video, ho parlato del terzo cavaliere, il cavaliere nero della carestia. La Madonna, in alcuni messaggi, ha detto che la carestia alimentare è programmata o organizzata con cambiamenti climatici indotti artificialmente, guardate il progetto ARP, e con sementi geneticamente modificate. Poi c'è il quarto cavaliere dell'Apocalisse, il cavaliere colore verde putrefazione, il cavaliere della morte. Io, all'inizio di questa registrazione, vi ho parlato dell'elite che vuole livellare la popolazione mondiale con pandemie e guerre organizzate. Quindi, i cavalieri dell'Apocalisse descrivono il progetto dell'elite mondiale nei confronti dell'umanità. E come sappiamo, loro notificano tutto. Infatti, Barbara Marx Hubbard, una futurista americana, aveva detto noi siamo il cavaliere pallido, che è la morte. I cavalieri della morte passeranno in mezzo all'umanità. Questi sono i tempi più duri della storia. L'ha detto lei, Barbara Marx Hubbard. Arriveranno persecuzioni, morte sotto ogni aspetto, il quadro della situazione è estremamente pesante, sembra che non ci siano vie di uscita, vie di salvezza. Però, nell'ultimo messaggio che ho letto, è scritto, mia madre trionferà su tutto il male. Travignano Romano 2021 Presto inizierà la vera persecuzione dei cristiani. Ma voi non temete, perché io vi proteggerò. Anguera, Brasile, 2017 Verrà il tempo in cui molti ferventi nella fede si tireranno indietro, ma nella grande persecuzione i miei devoti sperimenteranno il mio amore e la mia protezione materna. Paratico, Apparizioni, Brescia, 1999 Figli amati, non temete le persecuzioni, non temete nessuno, io vi proteggo. Carbonia, 2004 Maria, che è il segno misericordioso del Padre Celeste, saprà custodirvi da ogni malvagità terrena. Zaro, Napoli, 2012 Una guerra spaventerà l'intero mondo, ma voi siete sotto la mia protezione, non temete. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501